Nella lunga e dura battaglia dei piacentini contro il covid, l'arrivo del mese di luglio sembra aver portata una tregua. Dei 146 giorni trascorsi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, esplosa il 21 febbraio con il ricovero di Mattia al pronto soccorso di Codonio e subito arrivata Piacenza, gli ultimi 16 sono stati senza dubbio quelli più tranquilli nella nostra provincia. In questa prima metà del mese, infatti, non si è registrata alcuna vittima e sono stati scoperti solo 20 nuovi contagiati, quasi tutti asintomatici. Il bilancio per il nostro territorio resta comunque drammatico con 966 vittime totali e 4567 casi di positività accertati, ma i dati sono sempre più incoraggianti. Basti pensare che da quattro giorni consecutivi, oggi compreso, il bollettino regionale recita per Piacenza un doppio zero per morti e infetti e che l'ultima vittima da coronavirus riferibile alla nostra provincia risale al 30 giugno. Le autorità invitano comunque a non abbassare l'attenzione, continuando a osservare scrupolosamente le disposizioni anticontagio, anche perché in alcune province, Bologna e Modena in particolare, sono scoppiati focolai che hanno in breve fatto schizzare in alto il numero dei positivi e i conseguenti rischi. Ecco perché la Regione Emilia-Romagna ha reso obbligatori test sierologici per i lavoratori della logistica, tra i quali circa 10.000 piacentini.